Sono 7 miliardi di euro destinati alla Puglia dal Fondo Sanitario Nazionale per il 2014, con un tesoretto di circa 180 milioni in più da utilizzare per il potenziamento delle strutture territoriali e per garantire il piano di oltre 2.000 assunzioni preannunciato nei giorni scorsi dall'assessore regionale alla salute Pentassuglia. Un risultato importante per ripianare i conti della sanità pugliese costato non poca fatica a causa delle resistenze delle regioni del centro-nord, a prevalere sulla decisione finale non solo il buonsenso ma soprattutto i dati della popolazione rapportati a quelli epidemiologici. Le buone notizie da Roma consentono di mettere in sicurezza il piano occupazionale che prevede l'assunzione negli ospedali pugliesi di 2.530 operatori nell'arco di un biennio. 83 saranno i primari, 537 i dirigenti medici, 31 i dirigenti dell'area tecnica, 827 gli infermieri e 944 gli operatori sociosanitari. Il 40% dei rinforzi interesserà gli ospedali della provincia di Bari. In particolare 478 sono le assunzioni previste dalla ASL Barese, 344 al Policlinico e 92 all'Istituto Oncologico Giovanni XXIII. Il resto sarà ripartito su tutte le altre aziende sanitarie della regione. Con il tesoretto di circa 29 milioni in più rispetto a quello stimato, la giunta regionale prevede lo stanziamento di 3 milioni per aumentare le borse di studio dei medici specializzanti. Alle 211 borse finanziate dal Ministero se ne aggiungeranno una ventina coperte dai fondi regionali. Cattive notizie invece per i casi integrati in deroga. Se da una parte la sanità regionale può tirare un respiro di sollievo, il Governo dall'altra ha stretto i cordoni della borsa, riducendo le risorse economiche da destinare alla cassa integrazione in deroga. Per il prossimo anno i fondi a disposizione saranno sufficienti a coprire solo 5 mesi su 12. Il decreto, varato di recente dal Governo, prevede la copertura di 11 mesi per l'anno in corso di 5 mensilità per il 2015. In Puglia, ad essere interessati, sono circa 6 mila lavoratori con le loro 700 piccole imprese.